Sono Marco e quest'oggi ti insegnerò come caricare dei dummy content se stai sviluppando dei plugin o dei temi per Wordpress e WooCommerce. Se stai sviluppando un tema o un plugin, dei contenuti demo possono venirti molto comodi mentre stai sviluppando. Quindi voglio farti vedere come puoi attraverso qualche semplice step importare facilmente dei contenuti demo di modo che lo sviluppo del tuo plugin o del tuo tema sia molto più fluido e molto più pratico. Puoi vedere immediatamente infatti con un sito pieno diciamo come potrebbe risultare quello che stai sviluppando. Andiamo subito però adesso nella parte pratica e non perdiamo altro tempo così ti faccio vedere subito come si fa. Bene, come primo step andremo a importare dei dati, dei dummy data relativi a Wordpress e successivamente vedremo dei dummy content relativi a WooCommerce. Allora, richiamoci nel nostro backend, loggiamoci. Una volta loggati andiamo su Google e digitiamo wp-tem-test-unit-data. Il primo risultato che otteniamo è il codex. Ho già fatto dei riferimenti al codex di Wordpress in altri video che puoi vedere qua sopra suggeriti. Andiamo a vedere questo link. Allora, senza seguire troppo le istruzioni, adesso ti spiego io direttamente come fare. È sufficiente salvare questo file che è un XML, quindi salva link con nome. Andiamo a salvarcelo in locale. E una volta salvato questo XML, il passaggio che dobbiamo compiere è quello di andare su strumenti, importa. Andiamo a installare il nostro Wordpress Importer. Ok, e avviamo subito l'importazione di questo XML. Scegliamo, andiamo sulla scrivania, scegliamo il nostro XML. E diciamo carica importa. Lui ci chiederà se vogliamo importare con l'autore, diciamo demo, oppure assegnare al nostro autore. Questa è una scelta che possiamo fare come preferiamo. E un altro, questi sono due autori. Possiamo invece lasciare un secondo autore per vedere le differenze a seconda di quello che stiamo comunque sviluppando. Diciamo anche di scaricare e importare gli allegati. Lanciamo l'importazione. E vediamo che cosa succede. L'importazione non dovrebbe occupare tanto tempo. Dipende, come al solito, dalla tua banda e dal quantitativo di dati che ci sono da scaricare. Ma generalmente è un'operazione che dura qualche secondo, se non qualche minuto, a seconda della tua connessione. Ok, l'importazione quindi è completata. Ci chiede, dice, perché per ragioni di sicurezza è buona norma, aggiornare la password degli utenti che abbiamo importato, dei nuovi utenti che abbiamo importato. Quindi a questo punto ci rimanda la dashboard. E se noi adesso andiamo sugli utenti, andiamo a modificare appunto la password, come ci è stato consigliato subito. Andiamo a generare una nuova password. E gli andiamo subito a cambiare la password. Se noi adesso andiamo negli articoli, vediamo che abbiamo una serie di articoli. E se andiamo a visualizzare il nostro sito, adesso avremo titoli, categorie, insomma, il sito completo. Avremo diverse cose, avremo diverse immagini, abbiamo un po' tutti quelli, tutti i dati che ci possono venire comodi per testare un tema o un plugin se noi stiamo sviluppandolo appunto. Vedete che ci sono anche determinate altre pagine, ci sono menu con secondi livelli, livello 1, livello 2. Da qui possiamo vedere appunto che cosa è stato importato e sviluppare secondo, in un tema diciamo completo. Questo discorso io ti suggerisco di farlo comunque anche se tu stai lavorando con un plugin. A seconda del plugin che stai sviluppando potresti aver bisogno dei dati. Io ti consiglio di non lavorare mai con un WordPress vuoto perché se stai lavorando con un WordPress vuoto nel momento in cui tu poi hai a che fare con dei dati magari che non avevi previsto potresti incontrare dei problemi. Il tuo plugin potrebbe non essere quindi diciamo utilizzabile in tutti i sistemi. Come puoi vedere sono state anche importate delle pagine, sono stati anche importati dei commenti, dei commenti annidiati, quindi ci sono commenti di secondo livello e altro livello. Quindi hai tutto a disposizione. Adesso la seconda parte che voglio farti vedere è quella relativa a WooCommerce. Allora tanto per incominciare dobbiamo installare WooCommerce. Quindi installiamo WooCommerce. Adesso per una praticità lascio stare la configurazione e salto tutta la configurazione di WooCommerce. La vedremo poi in un altro momento. Comunque WooCommerce è installato e attivo. Adesso ti faccio vedere come andare a importare prodotti e dammi content relativi a WooCommerce. Allora andiamo sulla repository quindi WordPress.org So che stiamo per fare un'operazione che sembra che abbiamo già fatto ma ha un suo perché. Che tra poco scoprirai come mai. Cerchiamo il plugin WooCommerce. E lo andiamo a scaricare in locale. Quindi lo abbiamo già installato e tu ti starai chiedendo ma perché dobbiamo scaricarlo in locale. Perché una volta scaricato in locale. Allora io per praticità lo porto su sul desktop. Lo andiamo a scompattare. E WooCommerce ci viene in aiuto in questo modo. All'interno della cartella abbiamo sample data. Quindi abbiamo dei dati sample products che possiamo importare e tax rates che possiamo importare. Andiamo a vedere come fare. L'operazione è molto simile alla precedente. Quindi torniamo nel back end di WordPress. Andiamo sul nostro tool e intanto vediamo che qua possiamo importare i prodotti. Quindi avviamo l'importazione qua attraverso un csv quindi lo facciamo attraverso un csv. Scegli file. Andiamo qua dentro. Sample data. Sample product. Ok qua possiamo degli di aggiornare ma nel nostro caso è vuoto quindi importiamo tranquillamente. Ok dice seleziona i campi. Eseguiamo l'importazione. Anche qua dovrebbe impiegare qualche istante. Dipende sempre tutto dalla nostra connessione e anche dal nostro hosting comunque. Come vedete l'importazione sta andando avanti. Ok. L'importazione è andata a buon fine. A questo punto ci dice già andiamo a vedere i prodotti. E infatti abbiamo dei prodotti ad esempio che possiamo andare a visualizzare. Ok per vedere cosa vi come vengono fuori i dati che hanno. Ok questi sono solo degli esempi ovviamente però è buona norma averli se stiamo completando stiamo sviluppando un tema oppure un plugin. Allora adesso dovremmo andare se ne abbiamo bisogno dovremmo andare a importare anche le tax rate però non compare ancora qui c'è un piccolo tool per l'importazione molto probabilmente perché abbiamo saltato tutta la configurazione di WooCommerce. Come ti avevo promesso con pochi step abbiamo importato dei dummy content per creare un ambiente diciamo più confortevole per lo sviluppo di un tuo tema o di un tuo plugin. Fammi sapere nei commenti qua sotto se hai trovato qualche difficoltà e sarò lieto di risponderti. E in ogni caso se questo video ti è piaciuto ti invito a mettere mi piace attivare la campanella qua sotto e seguirmi nei prossimi video. Ciao!